Vediamo la teoria essenziale per questa lezione. Iniziamo ricordando le tre formule che abbiamo a disposizione nel caso l'equazione sia completa. La prima è la formula completa, una delle formule più conosciute della matematica, che è applicabile qualunque siano i valori dei coefficienti. La ridotta e la ridottissima si possono usare, invece, quando il coefficiente del termine di primo grado, b, è divisibile per 2. La differenza fra queste due formule sta nel fatto che la ridotta si usa se il coefficiente a è diverso da 1 e la ridottissima se a è uguale a 1. Entrambe queste formule ci permettono di semplificare i calcoli. Svolgendo questo tipo di esercizi, è importante ricordare che il prodotto di due radicali dello stesso indice, in questa lezione consideriamo radicali quadratici, è uguale a un radicale dello stesso indice che ha per radicando il prodotto dei radicandi. Questa formula è utile quando, per esempio, calcolando il delta, dobbiamo calcolare prodotti di radicali. Poi ricordiamo che il quadrato di un radicale di indice 2, qualunque sia il suo segno, è uguale al radicando, cioè a ciò che sta sotto radice. In parole povere, il quadrato toglie la radice. Ma bando alle chiacchiere e passiamo agli esercizi pratici. Vediamo il primo esercizio, nel quale l'equazione è già in forma normale, cioè nella forma ax alla seconda più bx più c uguale a 0. Per prima cosa scriviamo i valori dei coefficienti. Questo ci permette di capire quale sia la formula più adatta da utilizzare. Servirsi di una formula ridotta ci permette di fare calcoli più semplici e questo acquista un'importanza particolare quando ci sono di mezzo i radicali. In questo caso il coefficiente b del termine di primo grado è divisibile per 2. Attenzione, non è chiaramente un numero pari, ma può comunque essere semplificato dividendo per 2. Allora, dato che a, coefficiente del termine di grado massimo, è uguale a 1, possiamo utilizzare la formula ridottissima, la più semplice quando si tratta di risolvere equazioni di secondo grado. Calcoliamo il valore dell'espressione sotto radice. Da questo valore dipenderà il numero di soluzioni dell'equazione. Sostituiamo i valori numerici e semplifichiamo i due. Completiamo i calcoli ricordando che il quadrato di una radice quadrata è uguale al radicando. Abbiamo ottenuto un valore maggiore di 0 e allora questa equazione avrà due soluzioni distinte. Per trovarle, applichiamo la formula ridottissima. Sostituiamo i valori numerici e poi semplifichiamo i due. Otteniamo un'espressione che, presa prima col segno più e poi col segno meno, ci dà le due soluzioni dell'equazione. Vediamo il secondo esercizio, nel quale il coefficiente di x alla seconda è costituito da due termini, dei quali uno è un radicale. L'equazione è in forma normale, allora scriviamone i valori dei coefficienti. In questo caso, dato che b non è semplificabile, non possiamo applicare le formule ridotte e dovremo utilizzare quella completa. Allora, calcoliamo delta, la famosa espressione b alla seconda meno 4ac. Sostituiamo i valori numerici e poi facciamo i calcoli. La tentazione adesso sarebbe quella di sommare 2 e 4, ottenendo 6, ma, seppur giusto come calcolo, sarebbe un passaggio che ci complicerebbe terribilmente l'esercizio. Questo perché possiamo riscrivere questa espressione in questo modo. Abbiamo lo sviluppo del quadrato di un binomio, più precisamente il quadrato di radice di 2 meno 2. Quando si svolge un'equazione con i radicali è sempre bene tenere presente che il delta, o comunque l'espressione sotto radice nella formula, può essere lo sviluppo di un quadrato. Questo valore è maggiore di 0 e allora l'equazione avrà due soluzioni distinte. Per trovarle, applichiamo la formula risolutiva. Sostituendo i valori numerici, abbiamo la radice di un'espressione al quadrato. La radice di un'espressione al quadrato è uguale al valore assoluto dell'espressione, valore assoluto che possiamo togliere grazie al doppio segno di fronte. Prendiamo questa espressione prima col segno più. Sommiamo i radicali simili al numeratore e poi raccogliamo il 2 a fattore comune. Numeratore e denominatore sono uguali e allora possiamo semplificarli, ottenendo 1. Ora prendiamo l'espressione con il segno meno. Semplifichiamo i radicali, opposti tra loro, ottenendo un 2 a numeratore, che possiamo semplificare con quello a denominatore. Il risultato è un'espressione con radice a denominatore. È buona regola razionalizzare il denominatore, cioè togliere il termine col radicale. Vediamo come fare. Moltiplicheremo questa frazione per un'altra frazione, il cui valore numerico sarà 1. Come sappiamo, 1 è l'elemento neutro del prodotto, cioè non ne cambia il risultato. Questa frazione, per essere uguale a 1, dovrà avere numeratore e denominatore uguali. La frazione sarà questa. Perché? Perché il binomio che abbiamo scelto ci permette, moltiplicato col binomio a denominatore, di avere un prodotto somma per differenza, il cui risultato sappiamo essere una differenza di quadrati. Il quadrato semplifica la radice, e ciò che rimane, dopo qualche calcolo, è 1 a denominatore, che possiamo anche non scrivere. Abbiamo tolto la radice dal denominatore, e abbiamo quindi trovato un'espressione più pulita per la seconda soluzione di questa equazione. Vediamo il terzo esercizio. In questo caso dobbiamo per prima cosa portare l'equazione in forma normale. Facciamo le moltiplicazioni per togliere le parentesi, applicando la proprietà distributiva. Ora facciamo i calcoli tra i termini radice di 3x, simili tra loro, e calcoliamo il quadrato di radice di 3, ottenendo 3. Semplifichiamo i 3, opposti tra loro, ottenendo quella che è un'equazione spuria, mancante del termine noto. Risolviamola. Per farlo, raccogliamo la x a fattore comune, e poi applichiamo la legge di annullamento del prodotto, che ci dice che un prodotto è nullo se è nullo almeno uno dei suoi fattori. Otteniamo due semplici equazioni di primo grado. La prima ci dà come risultato 0. La seconda la risolviamo portando il termine noto a secondo membro, dividendo entrambi i membri per 3, e poi facendo le semplificazioni. 0 e 2 radice di 3 su 3 sono, quindi, le due soluzioni di questa equazione di secondo grado. Vediamo il quarto esercizio. Anche in questo caso dobbiamo portare l'equazione in forma normale. Il prodotto a primo membro è una somma per differenza, che ha come risultato la differenza di due quadrati. Scriviamo il risultato e portiamo tutti i termini a primo membro. Raccogliamo x alla seconda a fattore comune fra i due termini che lo contengono e facciamo l'operazione tra le costanti. L'equazione che abbiamo ottenuto è pura, mancante del termine in x. Per risolverla, dobbiamo innanzitutto isolare la variabile a primo membro e poi dividere tutto per il coefficiente di x alla seconda e fare le semplificazioni. Ora dovremmo prendere la radice di entrambi i membri, ma prima di farlo razionalizziamo il denominatore della frazione. Come fatto anche nel secondo esercizio, dobbiamo moltiplicare la frazione per una frazione con numeratore e denominatore uguali, in modo da moltiplicare per 1, senza cambiare il valore numerico. Allora, moltiplichiamo per 1 più radice di 2 fratto 1 più radice di 2, in modo da avere a denominatore un prodotto somma per differenza, il cui risultato è la differenza di due quadrati. Come sappiamo, il quadrato ci permette di togliere la radice. Completando i calcoli, otteniamo meno 1 a denominatore. Possiamo riscrivere tutto in questo modo. Quello che abbiamo ottenuto è un valore minore di 0. Infatti, dentro la parentesi c'è la somma di due quantità positive e di fronte alla parentesi abbiamo un meno. Questo vuol dire che l'equazione non avrà soluzioni. Perché? Perché x alla seconda, essendo un quadrato, è una quantità certamente non negativa. sarà positiva o, al più nulla, se x è uguale a 0. Questo vuol dire che non potrà mai essere uguale a un numero negativo. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!